Ciao a tutti e bentornati, io sono Jacopo e oggi vorrei parlare del referendum del 20 settembre. Vorrei prima di iniziare scusarmi per i colori, le luci e lo sfondo, ma questo sono ancora in Italia e questo è dove registro il mio podcast, quindi dove ho il microfono buono. Bene, ma entriamo nel vivo del discorso e finiamo con il disclaimer. Oggi vorrei parlare appunto del referendum del 20 settembre sul taglio dei parlamentari. Cosa dice il taglio dei parlamentari? Cosa dice il referendum di per sé? Di passare da 630 a 400 parlamentari e da 315 a 200 senatori. Bene, perché ne voglio parlare oggi davanti alla telecamera invece che pensare nella mia cameretta a queste cose? Perché sono tuttora indeciso su cosa votare, se votare sì, no o astenermi. Anche se astenermi devo dire che l'ho lasciato da parte come compizione, ma vedremo dopo perché. Ma sono ancora indeciso fra il sì e il no. Perché ci sono delle ragioni del sì in cui io sono d'accordo e delle ragioni del no in cui sono d'accordo. E mi sento ancora sbilanciato in questa cosa. E vuole parlare davanti alla telecamera, magari mi chiarisco le idee, magari me le chiarite voi nei commenti. Quindi basta che siate pacati, come sempre, grazie mille. Bene, allora vediamo subito partendo dalle ragioni del sì. Quali sono i pro nel votare sì a questo referendum? Allora, i pro sono che si va a ridurre il numero di parlamentari, di conseguenza si tagliano i costi. Anche se non eccessivamente perché si parla di 100 milioni all'anno che per le casse dello Stato sono abbastanza un nulla, ma comunque è un taglio. Un'altra cosa che si va a dire, in cui mi trovo abbastanza d'accordo, è che minore il numero dei parlamentari e senatori, più facile è prendere decisioni. Perché effettivamente anche la teoria del decision making, quindi del prendere decisioni, dice che meno si è, più facile è trovare un accordo, più facile è mettersi d'accordo e trovare una posizione comune. Ed effettivamente questo sarebbe quello che mi spinge di più a votare per il sì. Cioè il fatto di migliorare e facilitare la decisione in Parlamento e in Senato e quindi di velocizzare il modo in cui si fanno le leggi e si prendono decisioni in Parlamento. Bene, un'altra cosa interessante è un pro è che si parla da tanto e da sempre di ammodernare diciamo l'infrastruttura italiana politica e la Costituzione. Si è provato più volte, sia Berlusconi che Renzi ci hanno provato senza arrivare da nessuna parte e mi trovavo d'accordo con questa volontà di svecchiare un po' la Costituzione. Perché sicuramente la Costituzione è sacra ma è anche del 45 e il mondo è cambiato dal 45 ad oggi e di conseguenza magari dargli una svecchiata non sarebbe male, però è sempre da vedere come si dà la svecchiata. E quindi è vero, è un primo passo per cambiare le cose ed effettivamente lo è e questo è un altro pro, bisogna partire da qualche parte. Ora passiamo i contro perché sono legati abbastanza a questi pro. E se è vero che ridurre il numero dei parlamentari migliora le decisioni e facilita la velocità con cui si prendono decisioni, è anche vero che attualmente chi è nelle prime liste, primo fra le liste, è chi è più vicino al partito e di conseguenza segue molto di più la linea del partito e magari diciamo che è messo lì per clientelismi. Magari no eh, però diciamo che favorisce i clientelismi all'interno del Parlamento, cioè io ti faccio un favore, ti metto qui, ti metto fra le liste e tu fai quello che ti dico io. Quindi diciamo che si creano dei partiti di yes man che dal punto di vista decisionale è fantastico, dal punto di vista di diciamo avere una programmatica e progettare per il futuro o gestire uno stato in maniera buona, diciamo che non vanno molto di pari passo. Perché ci vuole un minimo di contrasto all'interno di un partito e soprattutto ci vogliono anche elementi un po' fuori dal coro che completino la visione di un partito. Quindi diciamo che tagliare i parlamentari, che vorrebbe dire tagliare le code delle liste di partito e quindi quelli che potrebbero essere dei punti di vista diversi da quelli più vicini diciamo al cuore del partito, farebbero comodo alla politica e comunque alla visione politica di un paese. Altra cosa che è legata all'ultima che avevo detto dei pro è che è vero che si porta a cambiamento, però il cambiamento va fatto anche in un certo senso e in maniera programmatica e organizzata. In questo momento votare a un taglio dei parlamentari senza che ci sia nient'altro di collegato è un po' un salto nel vuoto perché se sono d'accordo comunque a tagliare i parlamentari non sapendo quale sarà la legge elettorale successiva rende questa scelta un punto di domanda enorme. Perché? Perché la legge elettorale è fondamentale per decidere dalla forma un parlamento e quindi anche per impostare tutto il decision making, il modo di decidere di un parlamento. Quindi se si fa una legge elettorale di un tipo o di un altro il fatto di aver tagliato i parlamentari può dare dei risultati completamente opposti ed essere efficiente da una parte o essere un totale disastro dall'altra. Di conseguenza per me è molto importante il fatto che non ci sia una legge elettorale, non si sa ancora su quale legge elettorale andremo a votare poi quel minor numero di parlamentari e senatori e questo è un grande punto di domanda per me che mi mette più dubbi di tutto il resto dei pro e contro. Un'altra cosa che si è detta appunto è che sì è un taglio di spese ma non è che le spese siano poi così tante e di conseguenza sì bellissimo che andiamo a tagliare dei costi ma andiamo veramente a dare un impatto? Quindi diciamo che è una visione abbastanza populista della questione cioè è un dire stiamo facendo qualcosa stiamo tagliando la politica ma de facto non è che stia tagliando i costi realmente della politica. E altra cosa se tu vai a ridurre il numero di parlamentari riduci la probabilità che le minoranze entrino in parlamento e in realtà al di là delle minoranze politiche che comunque già non entrano in parlamento molto spesso perché bisogna arrivare a una certa percentuale di voti e comunque vince sempre la maggioranza quindi si porta la maggioranza a parlare in un parlamento ma dal punto di vista del senato invece si vanno a ridurre le posizioni di alcune regioni che andrebbero a perdere dei rappresentanti e di conseguenza la voce di quelle regioni è meno sentita. Quindi questi sono i pro e contro. C'è stato un momento in cui ho pensato di non votare perché la mia idea era senza avere una legge elettorale in questo momento non possiamo decidere se tagliare i parlamentari sia bene o male e quindi mi astengo però poi ho realizzato che se io mi astengo vince qualcuno che magari vota qualcosa che non vorrei e astenermi e poi vincersi e quindi si tagliano i parlamentari e questo è una cosa negativa è una responsabilità mia che non ho preso posizione. Se vince il no la situazione rimane invariata però essere astenuti non è un lasciare che le cose rimangano come sono ma è già un votare no lasciare le cose che rimangano come sono quindi ho escluso completamente il fatto di astenermi. Sono ancora in bilico fra il sì e il no per due ragioni voterei sì personalmente perché c'è bisogno di cambiamento perché mi lamento sempre che non cambiano le cose e ogni volta che c'è l'opportunità questo non avviene voterei no perché sì vorrei il cambiamento ma questo è un po' zoppato e senza una legge elettorale non saprei qual è l'outcome di questa decisione e di conseguenza senza una legge elettorale ho paura che si facciano più danni che altro basta di pensare che se fanno una legge elettorale in cui tu voti il partito loro decidono chi entra dentro sostanzialmente tu hai votato un gruppo di persone che scelgono per te tutto il resto mentre e quindi sostanzialmente in parlamento non ci va nessuno delle persone che magari vorresti tu ma dai ancora più potere ai partiti di fare quel cazzo che vogliono dall'altra se invece c'è una legge elettorale che permette di votare ogni singolo persona che c'è là dentro cioè non c'è nessuna lista di partito ma si vota chi entra là dentro e sai chi andrà a finire dentro al partito ok allora stai dando molto il potere a noi elettori di votare che ce ne siano meno è meglio perché vanno quelli che vogliamo noi e quelli che vogliamo noi sono là dentro sono in meno e si mettono d'accordo più facilmente quindi senza legge elettorale e senza chiarezza sulla legge elettorale tagliare i parlamentari è molto molto rischioso secondo me e quindi questa cosa mi sta diciamo mi ferma dal votare sì al momento sono ancora in bilico ma potreste avere intuito che sono un po' sbilanciato verso una parte di queste due io vorrei sentire invece cosa ne pensate voi e che ragionamenti avete fatto voi sulla questione io mi do ancora un paio di giorni per pensarci e poi completerò la mia letterina e la spedirò con il mio voto perché noi all'estero votiamo con la letterina bene detto questo ho detto tutto quello che volevo dire io vi ringrazio per avermi ascoltato spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia interessato se volete commentare su questa cosa fatelo so che la politica accende molto gli animi e scaglie le persone una contro le altre quindi facciamo tutti un bel dibattito sereno e educato se volete farlo se volete farlo potete fare anche meno grazie mille per avermi ascoltato noi ci sentiamo la prossima volta e come sempre se volete sentire la mia voce ogni settimana faccio un podcast che si chiama Economia Polpette e tra un po' ritornerà anche se è Jacopo da Londra anche se con cadenza meno frequente del passato grazie mille noi ci risentiamo al prossimo video e come sempre ciao da Jacopo